qua c'è un pezzo di coppa del montesa cazzo va che bello proprio bello lucido c'è il timbro del montesa e ti ritimbra tutti gli hai dato poco adesso gas aperto perché devi arrivare su dopo lo molli ma se arrivi su con poco gas fai così vai su poco poco non buttarmela addosso è no te lo so che non ti stacchi qua però se sbaglia mi ammazza come minimo e allora centrale centrale tutto accompagnato e ormai basta bisogna già alzare il livello ormai basta basta è già troppo facile osti li ha rischiato quasi come te è dungo ooo l'accompagnato lì devi solo uscire lungo l'unica cosa è che se non esci lungo ti è sicuramente meglio di quello questo no no oh tocca un pelino il davanti il davanti fallo toccare un pelino appena appena guarda ma non dai lì conto col dietro col dietro tocca il davanti guarda 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 vedi intrappolato intrappolato allunga l'ampero eh no no perché lì rischi che se ti tocca ti impulti eh lunga l'ampelino così fai lavorare tutto il mono dietro tocca un pelino il davanti quando arrivi qua tocca il davanti guarda Stefano come lo fa te faglielo normale che tocchi che tocchi col davanti guarda come tocca l'unico vedi che uno e due salti sulla moto tu invece arrivi così e picchia il mono se il mono lavora meno tocca un pelino il davanti e fai il saltino quando vai su impara a fare così prova tocca e salta su tocca eh tocca il davanti no non l'hai toccato eh impara guarda perché se tocchi il davanti il mono poi ti aiuta devi fare il saltello sulla moto tu però ti aiuta a andare su se invece no se no lavoro tutto il mono e basta c'è dentro la telecamere eh ma non è un ostacolo eh no eh questa è la bandierina ah ce le schiacciano guarda che c'è un altro a piedi parchi a piedi e e e e Grazie a tutti.